Se tutte le ragazze, le ragazze del mondo, si dessero la mano, si dessero la mano, allora ci sarebbe un giro d'oro intorno al mondo, intorno al mondo. E se tutti i ragazzi, i ragazzi del mondo, vorresti una volta diventare un marinare, allora ci sarebbe un grande monte, con tante marche, intorno al mare. E se tutta la gente, si dessero la mano, e se il mondo finalmente, si dessero la mano, allora ci sarebbe un giro d'oro intorno al mondo, intorno al mondo. Sì, è un giro d'oro vettor. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti